Quest'oggi vogliamo scendere nel posto probabilmente più ambito in questo momento di tutta la mappa di Fortnite La nuova torre che hanno fatto per il capodanno cinese Dove credo scenderanno un bel po' di player Esatto Dov'è di preciso, aspetta, lo ricordi? Ci dobbiamo buttare adesso Si vede, vedi che c'è una cosettina arancione Vicino a Pinacoli nel fiume, si vede, guarda il fiume Ah, eccola, eccola, eccola Ci sono due ceste all'interno, secondo me ci va un sacco di gente, per due ceste non ne vale la pena Ma l'obiettivo di oggi è Possiamo anche morire cinque volte, dieci volte non mi interessa Dobbiamo riuscire a conquistare una volta la torre Ma che carina Perché è troppo carina e deve essere nostra Quanti player vedi? E poi Steph, io adoro il capodanno cinese, ti dico la verità Comunque non ne vedo, eh, non ne vedo Ma, ma Che triste Ma, 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 ma c'è la torre nuova Ma, ma, ma Amici, venite, è bella È carina, anche le lanterne, scusate Non rovinarla, eh, non rovinarla, voglio vederla un attimo meglio No, 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 infatti Aspetta, aspetta Togliti Togliti Voglio andare fuori a guardarla bene Perché pensavo c'erano i player, ero spaventato Cioè, hanno fatto un capolavoro, è carinissima Eravamo pronti alla guerra Un montage di un sacco di scene per pur di conquistare la torre Invece siamo soli Ma la prendo io Come ho fatto? Ah, ma la prendo io S'ha nato in tilt Ok Vabbè, non c'era niente di particolare Una pistola epica, uno shield È facile dirlo Ma hai visto anche qui dentro? Sali, sali, guarda che bella Ha tipo gli infissi dorati, vedi? Questa cosa che sembra nottone Strabella È vero, l'hanno fatta carina Però io sono curioso Se noi sondiamo Ok, vedi C'è un pavimento prima del Di qua Ok Non è che magari puoi trovare Un ulteriore cesto Oppure no? Io ho letto che hanno detto che ce ne sono due Ok E credo però che siano costanti Sinceramente non è male una doppia ceste Penso che probabilmente per il capodanno cinese le terranno sempre costanti Sì, comunque un evento particolare No, secondo me sì Ma credo che comunque sia una torre che rimarrà nella mappa Dici che rimane? Sì, secondo me sì Non è speciale Loro vogliono aggiungere dei posti dove scendono i player Perché troppi player scendono negli stessi posti Quindi piano piano stanno aggiungendo piccole cose Quindi secondo me questa qua rimane semplicemente delicata Poi capito? Per il periodo Però secondo me rimarrà per sempre Ah, io pensavo che l'avessero messa solo come evento speciale Dato che siamo comunque in periodo Ok, però io ti devo dire una cosa Dimmi Ok Nessuno è andato Noi siamo gli unici a essere andato Siamo gli unici a tenerci Ok Dobbiamo vincere il game in onore della torre cinese Sì, perché è un po' triste Cioè, guardala da qui, è triste Sì, è sola Perché nessuna se la sta contendendo Nessuna se la sta contendendo Quindi la torre è triste Sì, sì, è tristissima Qua c'è del lut Guarda che bello M16 Oh, oh, oh Una trappola questa Ci vogliono attirare qua per ammazzarci Vabbè Cioè, c'era un pompa viola Cambio pure la pistola Dato che c'è Leggendaria Ma la prendo leggendaria Mi pazienza Eh, dimmi Vieni, vieni, vieni Secondo me ho visto il player Che ha ammazzato tutti quelli Che ha lasciato tutto quel ben di Dio Pensa come ha messo lui Pensa come ha messo lui Hai visto dove ha distrutto? Sì, sì, ho visto Noi dobbiamo affreddare Dimmi quando hai la visione Eh, più a manora Ok, vieni, 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 vieni Abbassati Sì, mi abbassa Lui è sceso nella casetta Quindi ne esce E noi lo massacriamo Lo vedi? Ok, no, non ancora sì Pronta? Sì A shield, a shield Li andiamo in casa? Eh, mi sa proprio di sì Secondo intanto siamo due contro uno Hai un pompa? No Ok Lui sì Ok Ho dovuto sparare con la mia pistoletta Perché ho finito i soldi No, comunque I soldi, i colpi Comunque non era lui Cioè, era un poveraccio Sì, era un poveraccio Scusami, non aveva nulla Mi ha fatto tanto danno Cioè, aveva un sacco di shield Aveva un sacco di shield Perché Eh sì, però, cioè No, ma era full shield E ne aveva altri due da 50 Quindi mi chiedo dove avete trovato tutti quelli shield Non lo so, era un portatore di shield No, io mi chiedo dove sia finito quello che aveva tutto il loot di quelli Cioè, il loot migliore di quelli Dato che ha lasciato un botto di roba Non so E poi Io avevo sentito Un airdrop può fare un sacco di rumore Eh, anche io Dov'è? Anche io Perché sai, un'arma leggendaria la vogliamo È ovvio Cioè, se ce la volete dare noi la vogliamo più che volentieri Sai che non so dove sia Non ho idea È strano Cioè, sono sicura di averlo sentito molto forte Eh, sì Però, boh Non lo so Siamo anche lontani dalla zona Dovremmo pensare di entrare fra poco Porca miseria Lì hanno luttato Ok Sono un po' triste Non c'è nulla di bello E siamo mal equipaggiati Fare C'è un'altra costruzione cinese Dov'è? Guarda dritti di fronte a noi Oh, ma allora c'è più di una Andiamo, andiamo, andiamo Forse questa qua è una cosa che c'è di solito Che hanno addobbato per il capolanno cinese No, mi sembra una cosa Loro hanno scritto C'è una nuova torre Non ce ne sono tante Eh, però guarda Vedi che è una costruzione apposita Non è qualcosa di addobbato Eh, ma magari Forse questa è a sorpresa Abbiamo scoperto la sorpresa Eh, magari è una sorpresa Tipo Ehi, se la trovi La sorpresa ci Ciao, player Uccidilo La torre è solo nostra E' basso? Sì Dov'è? E' lì? E' morto? No Ora sì Oh, alleluia L'avevamo detto che eravamo Quelli che avrebbero difeso queste dannatissime torri È nostra Non ci provate mai più Basta Ok E mi bevo anche gli shield Comunque è un'altra torre Non è una casa, Steph Ora che tutto a posto lo possiamo notare Sì Eravamo troppo in alto Per la zona, corri No Corri C'erano delle bende Hai preso delle bende? No, non c'erano delle bende Corri allora Sto piangendo Io ho 23 di vita Cioè la torre ci sta Ci ha distratti Ci abbiamo difeso da due player che non avrebbero apprezzato E tu ci ripaghi? La tua bellezza ci arriva pure la zona A me hai ripagato, eh Scarepico Quello col mirino epico Ti ha preso tutto il meglio Ma dimmi te Sì, sì, sì Ho rubato tutto Devo essere sincero Però comunque Ah, ma c'ho anche il fallo Allora ci ha dato anche le cose per curare No, ma allora la torre è stata gentile Allora la perdoniamo Scusa se abbiamo dubitato di te Non lo facciamo più Adesso ci facciamo una nostra torre In memoria della torre Comunque ti dicevo Se non è una costruzione Ma è un'altra torre Evidentemente ci sono più torri Sì Quindi non è Ci sono Forse hanno aggiunto una torre In diversi punti della mappa Però sempre ho capito Esatto Tipo CTRL-C, CTRL-V In giro Vabbè ci sta Perché comunque Mi sei costretto ad andare solo in una direzione Dai No, ci sta Sei tu che avevi letto male Che c'era solo in una zona Invece in tante zone Riscaldati Ah, bello, bello Si sta bene qui Si sta bene Allora Questo Te lo sei meritato Grazie Ok Bel regalo Le M16 normale ce l'hai Ma tu hai pochi colpi Quindi ti regalo anche un po' di colpi Non troppi Perché comunque non hai sparato bene Quindi te ne sei meritata 54 Perché ho sparato bene Uno l'ho ucciso io Scusami Buffer Dai si sta bene Potevi fare di meglio Lo sai tu Lo so io Dai Non prendiamoci troppo in giro Non allunghiamo questo discorso Sto zoomando sulla tua faccia Per spararti in un occhio Andiamo? Ok, vai Ok Guarda che a parte di scherzi Siamo tornati a essere messi abbastanza bene Cioè Buona vita Scillini Armi buone Aspetta Qualcosa in quella direzione Tipo? Tipo spaccare un muro Può essere? No Ti ho sentito in più tardi Penso Ho visto Allora Diciamo un'animazione Di fronte a noi Ecco Lo vedi? No Guarda Ok aspetta Arrivo Dove stai sparando? Ok da quella parte Vedo Lasciamo perdere Ah Sta costruendo un bot Sì È messo bene Però secondo me ci sono persone in lista Cavolo È equipaggiato meglio Lui non vuole lasciar perdere Sì Lui non ci ha perdonato Vedo un altro player L'ho visto L'ho visto L'ho visto Quello lì giù È amico suo? Ah no Steph io ne ho visto un altro dietro Allora abbiamo visto due cose differenti Io ne ho visto uno a 30 gradi Dove c'è praticamente la seconda torre in ferro Che correva lì in mezzo agli alberi Buttiamoci giù E secondo me C'è anche un player All'interno di quell'edificio centrale Perché quello che ho visto rompersi È la parete centrale di quell'edificio Quindi sicuramente ci sono altri player lì dentro Ok Ok Siamo in un brutto posto La torre cinese Ci ha ricompensato Ma adesso siamo noi A dover dimostrare Che ci siamo meritati tutto quello che ci ha dato Esatto Stiamo attenti E occhio perché il player Poi l'ho visto correre Proprio in questa zona Sì e poi soprattutto Verso sinistra Ci sono quegli altri Che magari si sono offesi E ci stanno venendo a cercare Quindi comunque Dobbiamo stare attenti In tanti lati E in tanti modi diversi Esatto Io quelli che tu hai visto Purtroppo non li sto minimamente vedendo E sono un po' preoccupato Infatti mi sto guardando sempre intorno C'è da dire che senza il cecchino A questo punto del game Diventa difficile Lo so Infatti il tipo ce l'aveva E non era un fight fattibile Perché che fai Gli spacchi le mura Mentre lui ti sniper Ovviamente Ok ci tocca passare da qua Ci tocca passare da qua Spostiamoci Poi vediamo dai Sperando di non essere uccisi Ora mentre ce ne andiamo Però è la cosa migliore Hai visto quanto è lontana la zona? Sì È incredibile Sì Lontanissima Lontanissima Oggi si corre Oggi si corre Allora Vedo lì alla destra 330 Un'altra torre cinese Sì la vedi L'hanno tutta rovinata Ma l'ora è piena Maledetti Guarda come l'hanno distrutta Eh no Non siete bravi Si rispettano le torri Si rispetta il capodanno cinese Non c'è più rispetto Per il passato Non c'è più rispetto Io tempi di me festeggio Il capodanno cinese Capisci La torre c'è da due ore E ci sono già i vandali Che le distruggono Ma come si permettono? Come si permettono? Lo so Con che Vergogna Vergognatevi Guardala 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 Comunque questa è già la terza Che abbiamo visto Chissà quante sono Davvero tante Allora Cioè non ne avevo notate Così tante negli altri game Quindi sì evidentemente Sono tante Sono tante Beh gli altri game Siamo andati poco in giro C'è da dire Perché cercavamo le bombe Le bombe Eh sì Allora Siamo praticamente Dentro la zona 26 play Oh porca miseria Sono ancora tanti eh Eh sì che sono tanti Abbiamo bisogno di un cecchino Eh sì che abbiamo bisogno Di un cecchino Ma quindi ci tocca ammazzare qualcuno E come facciamo? Eh non lo so Dobbiamo trovare qualcuno Allora guardiamoci un attimo Intorno Lì alla torre Sembra che non ci sia Comunque più nessuno Per fortuna Perché altrimenti erano guai Qui dentro c'è qualcosa Magari dei colpi Oh hanno sparato Non a me però hanno sparato Eh ho notato Ma dietro di noi però Vero? Sì dietro Visti No no vieni via Porca miseria Cavolo non l'avevo capito Ero uscita dalla casa Io ti odio Dimmi non uscire dalla casa Stanno anche buildando Eh ma sono fuori dalla zona Alcuni Altri no Altri sono sotto di noi È un fight Aspetta Ucciso uno Ok bravo Però c'è un altro team Sotto di noi Ok L'hai visti? Anche di fronte a noi Ok Eccoli A terra Comunque sì Ora capisco Cosa vuol dire Che l'hanno reso più preciso Steph Lo vedi Quell'altro in fondo? A destra Cavolo cavolo Dove? Tipo fuori dalla zona Tantissimo Ma come 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 Aspetta che mi copro Dietro la casa E ne abbiamo anche uno sotto Porca miseria Che noia Ma che ci fanno fuori dalla zona E morite accidenti? Anche perché noi non li possiamo vedere E loro ci vedono E qua tu devi resistere Scusami Poi non si vede una ceppa Con sta zona blu Una terra Ok Quale? Quello dentro la zona o quello sotto? Quello sotto Ecco infatti mi rispara Non lo vedo Non lo vedo Questa è una scemenza gigante Eh lo so Odio sta roba Odio sta roba Che non si veda fuori Però da fuori loro ti vedono Capisci? Quindi è una cavolata incredibile Uno è morto C'è altra gente che spara lì No non lo vedo Neanche zoomando Niente 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 Non vedo nulla Anche perché avrei un cadavere E siamo anche abbastanza lontani Della prossima Secondo me è morto È morto È morto È morto È morto È morto di zona Andiamo a luttare quelli E ce ne andiamo? Eh Sì Boh io faccio cose Sto panicando Ok io ci provo Porca miseria Che schifo di loot Che aveva Era proprio Di quelli che gioca male Allora qui c'era giusto Il falò Che è una cosa ottima Bah Bah Steph Schifo Bastante schifo Sì 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 Ci sono due player A nord ovest Se come ti stanno mirando Stai coperta Ok Ok Sì Quindi qua devo stare Eccoli eccoli Sì che mi stavano mirando Vero Ti dicevo comunque Ho capito Quando hanno detto Che con questo fucile Cioè che questo fucile Sarebbe diventato Più mirato È molto più preciso Adesso è Ok Molto più preciso Hanno provato a colpire a me Cioè ce ne dobbiamo andare Però Questi rompono Eh che facciamo Aspetta Ce ne dobbiamo andare Steph Ah ma è già arrivata Corri Ce ne dobbiamo andare Che noiosi Cerco di fare il giro largo No 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 Se segui la linea Ce la fai Eh ma anche di Cercare di comprimire Con la collina Perché questi Sennò ci pestano Capisci Cavolo è un bel game Eh Lo so che è un bel game Due, due, chili o quattro Siamo a sei Siamo ben equipaggiati Adesso Meglio tardi che mai Lo sfioriscono di fronte a noi Steph Cavolo Niente Non abbiamo speranza Dobbiamo andarli addosso Dobbiamo andare addosso A ucciderli Sì Totalmente Pronta? Sì Più o meno Spero bene Che game eh Non ci si ferma un attimo qua L'hai visto? Vai Fede Niente Niente Cioè Poi Fortuna su fortuna Cioè loro Non so cosa stavano facendo Prima hanno costruito Poi erano fuori A prendere pesce O funghi Non lo so Ed erano di nuovo in giro No certo Certo Che sfiga A me infatti ha preso Col primo Io stavo facendo il bullying Poi c'era l'albero Non potevo costruire Sono scivolato di sotto E mi ho trovato Perfettamente di fronte Che prendevi i funghi Davvero No certo certo E mi ha fatto un colpo di pompa Che mi ha tolto troppa vita E guarda Mi sono anche fuori dalla zona Manco stanno No vabbè Adesso entrano Stanno lutando al volo Prima di stare dentro Eh vabbè Che brutta roba